pronti partenza via la 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 e conoscere oltre i luoghi le persone quello che ci rimane ci portiamo sempre da dietro bellissimo hai raggiunto la tua destinazione manguten buri fighter a cascia vai giù bisogna un passaggio i miei colleghi non se la scorderanno mai levico terme posto splendido maraviglioso fiabesco good morning good 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 pipì pipì quasi vedono le gente con le coglioni facciamo la pipì la pipì la pipì la pipì io vengo a portarti anche il borsa ultimissima settimana carica pallettoni eh 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 io ho già preso due caffè ma il tezzo come capitano dai cappelli più belli del mondo signore e signori andiamo a conoscere Giuseppe Bicca buongiorno ragazza solo la pressione ci avevamo da fare e basta vero? allora i livelli di assistenza sono tre in questo momento se accendete c'è la velocità bianca significa sono pronta sono accesa ma non ti sto assistendo questo è il turbo la prima prova è cronometrata cara me lo faresti il mio classico caffè? e Sasha ormai sta qui? la sera Sasha studia e ci dirigiamo verso Monte Bondone siamo nei pressi di Trento e saliremo cari miei fino a 1632 metri di altitudine 4 3 2 1 sbagliato che c'è? ecco il duco il viola occhio sascia che ne richiesta? una delle tue? cosa? impennata ah mi sono cagato eccola dove siamo? andeno andeno ci sono le carciofi beviamo non quando abbiamo sede è troppo tardi beviamo prima bella bella bellissima bella pizza molto guidabile molto sicura anche in discesa ti sembra di essere proprio tranquillissimo dicono sia siciliana dicono così oggi è una splendida davvero mi sto divertendo non che non mi sia divertito negli altri giorni ma oggi con il sole chiaramente cambia il sapore poche birre ecco qui sascia nella sua posizione naturale l'ho visto dormire stava così era così davvero no 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 ecco la di fare trovare ancora tantissima grinta a Giuseppe dica c'è una ricetta sparta questa è un'ottima notizia un'ottima notizia un'ottima notizia un'ottima notizia un'ottima notizia un'ottima notizia montebondone andiamo a maglia ancora che bello montebondone è una volta due volte la maglia rossa il quale sia il retina LCS Sport con Giuseppe Dica eeeh la tessima tappa di Giro E.N.E.N.E. la T-Sway a così vestire il simbolo del primato il capitano Giuseppe Dica team LCS Sport grazie grazie direttore grazie hai anche la telecamera sempre sempre pronta un tastino e va grazie grazie raga per i paddock vado sempre di qua ragazzi siamo a Maya grandissimo entusiasmo del mio team che se ne sta fottendo altamente passaggi in ospitali proprio così boom ma abbiamo mangiato comunque siamo dei porcellini siamo che l'abbiamo rubato abbiamo rubato e volevo la scusa di mangiare più pulito e più tardi prendere più birra invece l'ho mangiato lo stesso ha capito Sascha ho mangiato solo l'uva e il modo che mangia sull'uva è un brutto un modulo che mangia solo l'uva è una delle bestemmie di modulo abbiamo davanti a noi 200 km Robby dove è che stiamo andando? una buona stirra di previso dov'è ricevuto? eh? dov'è ricevuto? non capisco un cazzo dov'è? è un caffè che non finisce 4 km dall'hotel ma siamo ma siamo una stiera la destinazione è sulla sinistra qua in fondo scarichiamo le velizie poi tocciamo indietro destinazione ragione e qui il buco? qua scarichiamo ma sapete che una volta al giro di Danimarca ero un neoprofessionista eravamo in un hotel bello nella hall e c'era tipo così ma l'acqua era fermissima e non c'era uno delinghiere e tu ti sei buttato e dov'è una cosa c'è una cosa ma l'acqua ci siamo 4 dicendo oh wow sono dentro l'azienda c'è il caffè texa e i san pietrini dentro l'azienda hanno costruito una strada una piazza quella è una stazione ma guardali guardali la via sì sì c'è una via è un piccolo paese all'interno esatto c'è un paese augurandomi di rivedervi qui tra qualche anno magari un motore brevetato texa in grado di vincere su tutti grazie 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 facciamo applausi adesso come sempre la prima presentazione poi abbiamo il capitano del team RCS Sport il mio ambassador e uomo immagine del marchio Lombardo Bikes è un che è un come dire sponsorizza la fatica in generale assolutamente Giuseppe Bica Bica arriva da Trapani arriva per la prima veloce non sei nuovo a delle pitalate estreme diciamo sì in grave l'ho fatto da Trapani da dove vivo io fino a Svizzera ho tagliato ho spaccato l'Italia però volevo unire in realtà ma che cosa ha messo su Gabriele Tonon questo posto è uno spettacolo non mangi ragazzi diciamo dove siamo stiamo a birrificio san Capri birrificio cioè è riduttivo non è un birrificio è un museo è un visto museo no maglie storiche bici storiche premi è un museo